Primavera iniziate, con noi c'è Andrea Cappellini che è uno degli organizzatori. Sì, intanto buonasera, l'undicesima edizione della festa di primavera, vedo tanta gente per cui siamo contenti, il tempo ha aiutato, salutiamo l'arrivo della buona stagione ormai da tanti anni con questa iniziativa. Bello è che non è la solita festa con le bancarelle di vestiti o altro, si vede molto artigianato e cose anche un pochino più particolari. Sì, è voluto, tengo a precisare che tutti gli obbisti e gli ambulanti che sono stati invitati oggi è stata fatta una scelta, ma soprattutto li abbiamo invitati gratuitamente, nessuno paga niente, però la condizione era quasi... ecco che volevamo certa tipologia di prodotti, non le solite bancarelle cinesi purtroppo o altre cose. Diciamo antiquariato, molti obbisti, fiori, perché è molto importante. Quindi fare una fiera un po' ricercata, anche perché ultimamente queste cose vanno un pochino di più rispetto alle solite feste, fiere che si trovano in giro. Certo, noi abbiamo la fortuna che il nostro paese offre, che abbiamo questa arteria che è la vecchia via Flaminia, antica, e al momento che la chiudiamo funziona sempre. Però, ripeto, siccome commercianti ce ne sono tanti, calcinelli, l'offerta è molto qualificata e variegata. Mettere cose su cose non lo riteniamo importante, non lo riteniamo furbo. E mentre ben venga, dell'ottimo artigianato, fiori, obbisti, ripeto, è una scelta. Sì, perché poi negli obbisti troviamo delle cose che... Un mondo nuovo, un mondo diverso, che noi magari non tutti conosciamo. Quindi c'è quello che realizza a mano, tipo delle sculture, oppure, che ne so, cuce, delle cose particolari. Artigianato che si sta perdendo purtroppo. Eh, lo so, si sta perdendo, questo è quasi normale, non possiamo pretendere di dire che viviamo nel 3000 e volere ancora, cosa so, la scarpa fatta a mano. Purtroppo il progresso è anche questo. Ho visto una bancarella qua, di un ragazzo, che non conosco, con legno di quercia produce pipe. Una cosa molto bella. Cioè, anche solo se non compri, già ti fa curiosità, ti fa un attimo ripensare a quello che è la gestualità, a quello che è la manualità, a quello che fa... Quello che stiamo perdendo, perché i nostri ragazzi, mi sembra che di manualità, ne stanno perdendo anche tanta, troppa. Sì, purtroppo sì, però siamo sempre noi che dobbiamo un attimo riportarli a ragionare in un certo modo. Benissimo, noi continuiamo a fare un giro e... Dimmi. Ecco, è possibile ringraziare, perché io rappresento ASEM, sono il segretario più o meno, l'organizzatore, ormai sono 3-4 anni che ci diamo da fare. E volevo ringraziare la Presidente, Giuliana Gazzoli, che è quella della cartoleria Merlino, e ovviamente l'amministrazione comunale, che si è dimostrata, come sempre, devo dire, sensibile, ha collaborato con noi, nella persona del Vice Sindaco, ci dà un contributo anche importante. Poi i visili, i carabinieri in pensione, tutti coloro che danno una mano a una buona riuscita. Grazie. Grazie a te. Ciao. Ancarelle, e una in particolare è quella dell'Associazione Amore, con noi c'è Antonella, che è la Presidente, e con te ci sono le sbiruline che troccano i bambini. Sì, buonasera a tutti. Noi quest'anno siamo in veste nuova, perché collaboriamo con l'Associazione AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, e vendiamo le gardenie. Le gardenie che andranno in beneficenza. Sì, andranno tutte per la ricerca di questa grave malattia, e in più abbiamo il solito mercatino e pesca di beneficenza. E le sbiruline, qualcuna di loro vorrà parlare con noi? Vedo Silvia qua dietro. Silvia, allora come va con i bambini? Ti diverti? Sì, ci divertiamo tantissimo. Oggi è stata una bellissima giornata calda. Noi siamo qui prontissime per iniziare a fare i tatuaggi, i trucchi, insieme ai bimbi. Body painting, soprattutto al viso. Soprattutto il face painting, infatti ci sono le ragazze che già si stanno truccando, si stanno preparando. Noi siamo prontissime.